è che è un grosso vergogne 13 è un rocca è un mostro di cui saranno perse le tracce sostanzialmente non sono sconosciuti non sono sconosciuti capisci che si possa abbracciarle no? no è una bestia magica che è una bestia? è l'orguale? sarebbe stato un po' cissimo che ci voglia fa la prova quella che la fa la prova non la fa la prova non la fa l'osso eh no ci vabbè non so scordare di fare una cosa prima è una cosa fondamentale danni da fuoco 7 danni da fuoco quando si è schiantato d'osso non mi intanto toccato ma manca lui? no è l'impatto che li ha fatti stile mentre si parla di un'altrazza però quando si muove butta fuori il fuoco parca puttana e non c'hai gli occhi ma allora c'è che ha fatto non la fatti non la fatti lo schianto lo schianto la doccia si è scantato però la fiamma è l'euta perchè l'è proprio schiva ma chi è la cemina? è il tasco no questa è il macchia no io ho questo no no quella è l'aria e quella dietro? è culo questo eh ah ok eeeh che è che dà? ah continui dicendo al massimo 29 allora è schifo no ma si è davvero piazza qua lo sbilanci? no lo spingi? no ahahahah ok oh che buona mangi tu spingi basta eeeh io dico dai vieni avanti porta al me che dà un servo chi c'è? io o si si intatti questo un metro e mezzo di anni quanto tutto qua tu e noi vi ritardo troppo il febbre? si si ritardo il febbre io sono dopo il febbre iniziativa ok allora tocca a te eh no ma ce la dice anche lui eh ma tanto tocca a te lui ma tanto uguale è uguale è uguale c'è più di estrezza tocca a te lui sei serioso eh no per ritardare dopo di me neve più a per forza no iniziativa perchè c'è più di estrezza nemmeno vabbè attacca la mia vai ha detto qua tira 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 tiro tre frecce no tira io l'arco non è che può esca molti dall'acqua ma aspetta 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 di lì cerco io nell'arco quando ho avuto ehm no ma non eravamo in realtà in realtà va bene per più ce l'ha passata lo spiazzo no? quindi c'era lo spiazzo no? no no lo spiazzo è da dove c'è il vostro no no non c'è l'ingresso no? eh vabbè era per far capire che mi vedevate ma adesso lo poter mettere cioè lo potremmo andare solo indietro mettere così 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 potremmo solo essere po' punti e vabbè ho e tu tu fai venito qui dentro si si posso fare tutto tranne in ambienti sott'atto ma che è se sopra non c'è l'acqua? 25 ah tu fai lui i piedi è tanto non lo faccio fai tirare il tribunale è giusto questo è giocatori forti 8 giocatori forti fanno così 13 18 21 18 21 21 perché? 21 perché la settimana scorsa non c'era non si accorta più il suo mino 21 che ogni freccia fanno il non più ti hai avvicinato eh sento tocca dietro bilancia quella del più quello del primo tocca a te ecco si vuoi agire scrivi 9 9 che? pensate a te la settimana ok eh ma insomma che fai? sui 5 e qui c'hai il corridoio? si ah io faccio un attacco non le faccio un attacco non lo faccio un attacco perché a uno? si quindi la spalla non ti serve? e lei dice tu perchè fa uno? si è infila lì più in mezzo ahahahah ma arriva di me non ti serve fuggire le manu e non ti serve se non ce l'hai non ti serve hai solo una spa adesso non lo so vado sul bicolo no qui c'è il bicolo no 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 c'è il bicolo ah vado sul bicolo non credo che c'ha il ricordo da movimento 3 se non hai buon movimento si è preciso e perchè no perchè va a tre quadretti lo hai detto qui non ho più qualsiasi quadretti ah no ma è vero infatti ci ha riuscito a portare ah li vedesti qui siete creati un messaggio allora mi faccio una colpazione 25 metto qui si l'ho fatto il 25 perchè prima di tirare mi decide quant'è la cd non è che più fermi hai capito decidi tu io lo tiro sempre sicuramente ma perchè per fare difficile dici è difficile e tiri per difficile easy e gli scarico un altro fulmine quante la cd quattore no basta 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 tira i danni i piedi eh infatti è ma staccate per fargli male intendo non ti ho visto non ho capito il tuo sistema invocare il fulmine che è vero brutto tutti gli incantesimi belli che c'è tipo spera invocato su un mostro del fuoco tipo cos'è invocato è ovvio sul mostro del fuoco otto dici danni la minoria nel fattore non ho capito ma io non ho capito come funziona stincantesimo no? fai fulmine a te da sopra lo posso fare in qualsiasi ambiente questo è ok la nuvoletta la nuvoletta la sposta no no scusa 30 metri no 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 il fulmine è un 9 metri ma lui lo invo- non viene dall'alto esatto non lo voglio c'è una parola verticale aspetta un attimo lui l'ha invocato qui il fulmine prima eh ma non è che funziona che tu poi che cade sempre su uno stesso posto e capitolo cade no, cade nel raggio di 9 metri da dove hai tirato la data del corso perchè c'è la raggio di 9 metri il corso no no aspetta è largo 1,5 metri lungo 9 metri ma è lungo 9 metri ma è lungo così da raggio 9 metri ok appunto però se tu lo tiri tu qui è 9 metri così è diverso da 9 metri così se si creatura nel quadretto bersaglio o sul percorso del fulmine ne subisce l'effetto non è necessario cioè quello che tu voglio dire è che tu se tu crei tipo una nube del raggio 36 metri ok raggio d'azione è medico raggio d'azione è medico raggio d'azione è dove tu lanci l'incante c'è scritto c'è scritto l'effetto uno più fulmi di verticale lunghi 9 metri da raggio d'azione è 30 metri più 2 metri all'interno cioè lui in tutta quell'area dal cielo fa carriere dei fulmini alti 9 metri cioè significa che ho visto l'altezza che colpiscono anche più creature in altezza esatto ma in lunghezza l'importante è che lui vera il punto dove vuole fare il carriere punto vai vai tira tira ti lanciarne e poi lanciarne fino al tuo livello già anche una tre fino al massimo a 10 fulmini no l'altro di tre fino al massimo a 10 fulmini che si ammazza poi lo faccio io e io gioco e io gioco chi ammachio chi ammachio chi sa cosa succede se ti lancio colpi infuocati non lo sai che non hai visto uscire dalla lava quindi potresti arrivare io rifetto meglio su ciò che sta carendo perchè sta carendo fa paura fuori non lo sai però con colpi infuocati sono e acrobatizzo anche io il normale e metti qui ok a 15 un po' in specifico ok io tu l'ho fatto tu c'hai rifetto la rapida attacco le castane ah io ho troppo detto un più perché c'hai rifetto la rapida attacchita a me si quanti c'hai le cia? 30 ahahah con città c'hai giusto ho fatto 40 quello di 4 non ti chiapp mano ecco c'è ecco c'è ecco c'è ecco c'è ecco c'è ecco c'è 19 di base più uno de del bookler più no 19 col bookler più uno dello schifare più 5 della maestrale più di 5 più di 3 da 32 e tu ok non schiappa è schifato è chi era un mosco di lato poi si attaccano l'aria poi l'acqua quindi l'acqua quindi l'acqua cioè lui comincia a calzarlo e manda sempre in giro si si ci può stare qui è fuoco preso i rinavalli anche perchè ha visto è grosso non lo so non lo so non lo so devi fare una prova di spingi per far meglio treggio e lo attacca e se non lo fai non lo fai lo taglio il più grosso capito io so spingere migliorato comunque c'è la prova ok non è la cazzo se tu non ti scansi da l'umosca tutto il terreno ti chiacca automaticamente tu l'hai schivato non perchè è parato perchè ti è scansato si ha ragione però non ma che sta cosa è realistica diciamo è sceglierlo un punto è realissimo ma ne è sul no no se vuoi imparare non è videogioco si vuole imparare se vuole imparare no mi diri se ne spingere ma non ti attacca anche spingere per tutti e la spinta perchè vabbè 13 più 6 19 mi sa che fa buttare via no, c'è più 12 8,30 quant'è il cambio della spinta? ah se lo spingi guarda ogni 5 punti in quadro è finito al suo movimento quindi lo spingi lo spingi quanto vuole? e spingi anche a noi? no, si affida qua se vuole spinta a noi si può proprio fare lei non ci contrappone in tutti puoi scherfiare? no, ma anche ah si, ti fermavo il mio colpa tu dovresti stare nella spinta vai, provavo no, la domanda è una ma mi fai agli da foco esatto, quello sicuramente ti dai agli da foco al fermo mi hai contattato 4 bandi da foco e t'ha spinto t'ha spinto l'ha fatto attacco a conta un po' a tirgilo giustamente no, l'ho fatto uno non la rimasca ma sta iniziare non la norada fermo dai dai non spingi si fai scrivi scrivi e c'è quello che non ti fa quando ti era prima da te si fa con questi e' un po' in cazzo lo ha spinto ma tu non sei stupido vai indietro non te li belli non sarebbe giusto spingi c'è tu vuoi dire no, è che non non spinge a me quello il discorso che diventa il fatto che devi dire sopra c'è, ma hai nata tutta enormi non so io, la taglia vuol dire, lascia stare le regole il gioco truolo, ne ho detto, ne il videogioco se applica la logica e basta no ma sono ancora colmacchia, quello che io ho sempre sostenuto i reddienti se no già siamo uv adegu una volta prima dai voi ma c'è un occhio un po' c'è nessuna parola dove l'evoca? è malvagia? chi dici? che evocato scusa? è neutro, è una becerica ma la vaginiera che figata ma quant'è lunga sta cosa? è neutro all'evocao? no il pudore del nostro attacco completo ma quindi è enorme, è colossale no no è enorme ma è è colossale per lungo colossale è 60 metri ferro a quando lo scappassi ma 60 metri per cosa? è come... è una montagna di 60 metri ferro ma come il titano deve colpire macchia ma studiante attacco così ma è quanto è lungo scusa? minaccia no no ho fatto 10 più 10 si colpito un D8 più ricordi i bonus dei talenti eh un D8 più 12 allora più della forza ha un danno è un danno no c'ho più più 4 la forza più 4 la forza quindi c'ho più 2 più 2 i danni è la cosa che mi provi gli fa anche fuga precipitosa eh? eh no che evocato riacente ricarica che? fuga precipitosa ricarica però fa attacchi naturali vero? cose di taglia grande attacchi naturali danni di albisonti 7 danni albisonte vabbè anzi una 47 no non c'è non è quella che ho appena detto ma è possibile che lo spingi eh ilbisonte ha infine carca la spinta posso farglielo? no ci sei andato quanta massa c'è a tu che mi merda è pieno ma secondo me questo palettino di qui che c'ha scritto spingere se lo è più pesante le quattro tu c'hai di qui me la fai a spingere eh non si passi la prova eh secondo me eh no no a posto il gesto di che questo è talmente tanto che questa roba mica piena non ce la fai se palla ma non c'ha forza più però non è perché tu non è quella seria potrebbe essere più grande spingi e tonnellate ma credo che pensi più ok ci va avanti un bel cc un touch trevo se nevo con me non mi piace posso fare una minima trevo come prego mi hai detto ok c'hai un problema ma tu qui c'è un muo e tu qui c'è una curva tu qui eh si ma io ho che cosa si è suicidata ma che c'è ma che c'è ma che c'è il muo no che c'è il muo e tu qui c'è un cunicolo c'è un'altra azione mi ha toccato a me aspetta eh di qui c'è il cunicolo di cui c'è un altro pezzo di muro e di qui c'è la cosa di lava quello del lago pezzo di lava rosso che ho veduto prima hai ne ha tu il pezzo di lava rosso e anche qui c'è Per dove è la luce? È un po' più a destra, però non so come al rischio c'è C'è l'azione giustamente Se si schiaffi Anche io Allora ci muoviamo in tempo c'è pochi schiaffi e io Mi premonisco Muro di petra Faccio vedere questo Muro di là Muro di là Muro di petra non ce l'ho E' un luogo un altro Ma ne fai tenere 2 alla volta adesso Già apri un po' da te Ok Basta finito Ci sono più di uno Sì Gente sui c'era stasera Come in te? Ehm Mi hai detto Tasco Una 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 Colpito Un 20 A Quanto Quanto è? No 10 Ehm 11 Buona 2 frecci 20 12 12 12 danni? Si Buono il tasco sta muovendo le pennine andiamo al papà senti che se no si scorda la disposizione è buonissimo lo scontro con l'ormone gigante che la gente sta a fare cose più a suicidarsi e io con il prossimo lato non ci vuoi essere si 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 perchè lui è portato il governo e si che inza apposta buona e ma anche se a questo servizio ma qui la roda si si è sposto no aspettaci si esatto la cucina era io sono fatto il marmone piedotene hanno provocado attualmente Damiano io poi ho il suo lavoro e il tasco la lì il tasco è portata eh? dai dai chi scelta la lava? cosi? dov'è la lava? mette queste due ma c'è l'angolo del legno del legno? no del legno nel senso e qui l'eco però adesso è fiancheggiato ma va cacchino non lo puoi fiancheggiare se c'ha la top tidy non lo puoi fiancheggiare, puoi fiancheggiare il drago colossale C'è altro che puoi? C'è altro, uno lo tiene per la coda, quell'altro deve dare sparatine tra le zampe d'auto Cioè una destra della zampe e una sinistra della stessa zampe Ah ok, così sai Quella definizione Oppure un makarov da una parte e un makarov dall'altra Ah sicuro? Ah ti hai fatto? Fiancheggiatissimo se permetti Ok, è pepola eh Io preparo l'azione d'attacco quando il seme passerà a fianco E non ti mangerà Ok, ehm Io? No, io No, io Dove sono io? Mi ha qualcosa di razzuto Mattia Che? Non basta ragazzi Undici Undici anni Cazzo quanto fa? Ci sono io? Undici anni? Sì, undici minuti Dai non mi metti da fare Ma chi ha? Ah scusi di qua Portalo sempre lo ti giusto No, io portalo sempre Eh ma di qua va da un punto nove Da un punto nove Sì Costeggiate sto lago di lava Movimento e strago il cortello Anna Capazia posso? No, non vuole fare troppo Non vuole fare troppo Rischi di perdere il coltello Non cade per terra E adesso mai capo Vazio 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 Tu si devi sparta anche a quel fertilma Sté schiantà qui In questi scemoditi Guarda stesivan Spaccano il muro Sti sarà davvero opportunità Posso farone ad alcun register Punti e salvezzo Luh ha avuto un muro Che dove si sta schiantando l'osso E è stato anche tutto tutto Ok Riflessi no? si quindi te ne gile in piazza mi spersi molto incantesimo 19 basta dai ma ci puoi troppo bene quindi basta 19 basta tutte 3 quindi io mi sposto 4 eh ma voi per tenere di mezzati 21 danni da di mezzati puttana 10 danni no? vantaggio di fallare anche cosa deve eludere no 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 non ricordo ok ok io ho fatto ma quindi hai alzato su quei 6 quadretti no no ti sei alzato ti faccio anche la mossa giustamente esattamente in quel modo eee dunque ho fatto io neggi arriva la bestia dove l'arriva? dov'è l'affare? che hai evocato? c'è l'hai imbisontato ce n'avei imbisonte? no l'hai fatta di qui? no le altre si così ah ok c'è la stanza tutta aperta tutta aperta allora vero? si che penalità ti dà? niente niente voglio quante forze devi salire l'ho preso che ho fatto uno per evo carne del livello 4 c'è due calli ah no fa più carne il bisonte che possiamo calli apposta io vi chiedo che l'ho inventato lui il primo con il primo bisonte l'ho preso non puoi caricare adesso ah ma sono andata sono andata ma sono andata però potrai caricarlo con la fuga non puoi caricarlo perchè è riacente evitare troppo lontano dai dai vabbè così 2 1 dai fa parte il bisonte per quanto da te? non puoi niente beh si ormai l'ha detto me la mette indietro mazzo dai sai che ti dico beh 100 anni l'ha presi l'attacco ci provavo no 100 gravi si entrato di 2 era più 11 14 c'è meno 5 c'è meno 5 c'è meno 5 c'è meno 5 sto pieno mi soccorso la porta il gioco per cuore dove c'è fila ma ma la porta sto tira un bene ma il miglior del buco l'arco e salta cosa non è la mia per colpire le conto no no 17 non è che 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 erano 19 19 20 no ho fatto un critico stasera la mia tristezza non ci sono eserci giù mortali non ci sono dai tutti e tre colpiti ok vai potresti riuscire no ma sicuro 3 4 4 15 15 3 4 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 14 14 15